Si è aperto grazie a questo primo presidente, Nestor Kirchner, che ha voluto a un certo punto appoggiare gli organismi di difesa dei diritti umani e aprire un luogo molto speciale per la memoria. Ci sono due, anzi ce ne sono tre, però due fondamentalmente di far memoria. Uno è nei luoghi dove i fatti sono venuti. Per farne uno diciamo più vicino a voi emiliani, Montesole o altri luoghi dove i fatti sono venuti in Italia. La risiera di San Sabba dove ci sono andate. Ci sono molti luoghi di memoria nei luoghi dove sono venuti i fatti. Poi ci sono i luoghi, i memoriali. È un'altra cosa molto importante. Noi a Buenos Aires abbiamo il parco della memoria, che è importantissimo. E poi ci sono i musei. Sono le tre cose. Ora, quello che tu hai menzionato, la scuola di meccanica dell'armada, gli sono sfilate 5.000 persone. Ci sono però moltissimi sopravvissuti. E questo è stato molto importante perché sono i testimoni che nei processi che ci sono, per fortuna adesso ce ne sono molti in Argentina, prima quando non si potevano fare se ne sono fatti anche in Italia. E allora questi testimoni sono fondamentali. Sono loro che hanno conosciuto, che hanno visto le persone, che hanno in carne propria sofferto. Allora, lì, Nestor Kiffin apre le porte di questo enorme territorio, una superficie enorme con tanti edifici. In uno di questi edifici c'erano i prigionieri clandestini, sequestrati, torturati e poi uccisi e fatti desaparecere. Allora, in questo posto la prima cosa è stata una cerimonia di apertura, siamo entrati. Poi hanno dovuto sloggiare tutto quello che era l'organizzazione della Marina Militare Argentina. Lì c'è voluto un po' di tempo e oggigiorno, sono passati già ormai vari anni, tutti questi edifici sono occupati da organismi di diritti umani, altre istituzioni, tutte hanno a che vedere con la memoria e con i diritti umani. Non so, c'è per esempio, c'è per parlare dei mezzi televisivi, dei mezzi attuali, c'è un canale di televisione che si chiama Inquentro, che è solamente di educazione. Fantastico è questo canale. E poi c'è l'UNESCO, c'è un archivio della memoria, c'è un centro culturale. Insomma, tutti questi edifici hanno un significato sui diritti umani. Poi, gli organismi di diritti umani. Ci sono le nonne di Plaza del Maggio, quelle che ancora cercano i nipotini. 110 già sono stati trovati e hanno recuperato la propria identità. Ma c'è una grossa campagna per le varie altre centenari, credo che altri 400 mancano. E c'è una grossa campagna in Italia per trovarne. Ebbene, e poi c'è un altro edificio, ci sono i figli dei desaparecidos. Noi le madri abbiamo una scuola popolare di musica, anche sul concetto di questo della musica popolare, che è una cosa che è sempre viva, sempre attiva, ma è accompagnata sempre anche come missione la difesa dei diritti umani. Nel posto dove ci sono stati i prigionieri ci sono le visite. Ce ne sono moltissime ed è terribile, ovviamente, visitare questo luogo, come è terribile andare ad Auschwitz o in questi posti. Ed è molto importante avere un contatto diretto con questa realtà terremente del passato. Allora, inizialmente si è subito pensato a un museo in questo luogo, anzi, l'edificio proprio simbolico, emblematico di questo luogo, è un edificio che ha quattro colonne, si chiama Il Quattro Columnas. E lì ci deve essere un museo. C'è l'idea di fare un museo, ma finora non c'è. Un museo è sorto quasi subito in un'altra città, a Rosario, che è una città anche dove sono andati a finire moltissimi italiani. E lì prima c'è stato un museo piccolino piccolino in una stazione ferroviaria che non funzionava più. Poi dopo un po' di anni oggi occupano un enorme edificio ed è un museo fantastico per i mezzi che ha utilizzato, per la serietà dell'impegno e perché ci hanno messo tutto, l'immaginazione e le possibilità che oggi abbiamo, tecniche, ma soprattutto questo impegno sui diritti umani e che il passato serva a che nel futuro non ci siano più queste cose. Allora, questo è il panorama di Buenos Aires. Ci sono esempi dove si fa più in fretta? Sì! C'è Santiago del Cile. Pensateci. È bastato un solo anno il governo della Bachelet. In un solo anno hanno fatto un museo. Ottimo. Un solo anno. Quindi si può. Devi dare i mezzi per farlo. Devi fare le ricerche previamente storiche, ma se ce la metti tutta, tutto il tuo sforzo, le tue conoscenze, lo puoi fare.